Le parole monorotaia e parcheggi hanno un significato piuttosto sinistro se accostate alla dicitura centro storico, anche se al momento di spiegare più o meno di cosa si tratta, il sindaco Roberto Gravina ha parlato di un progetto molto meno impattante rispetto all'originale datato 2007, dunque amministrazione di Fabio. In consiglio comunale nella seduta pomeridiana è stato approfondito l'argomento contratti di sviluppo e a farlo è stato il sindaco che a Montecitorio ha incontrato il premier Conte. I tre progetti che riguardano Campobasso, ammessi a finanziamento con questo provvedimento, si riferiscono comunque a idee già messe a punto, ma, ha spiegato Gravina, con lo stesso governo si è scelta la strada per poter presentare proposte credibili e finanziabili individuando tre criteri. Le opere devono essere strategiche, cantierabili e addizionali, cioè possono essere unite a altri progetti. Gravina ha spiegato in aula che si è trovato davanti a un progetto presentato dall'amministrazione precedente sull'area dell'ex Romagnoli, di proprietà della regione, che comprendeva la costruzione del palazzo della regione, con cinque progetti minori ad esso collegati su zone adiacenti e di proprietà comunale. Il pacchetto è rimasto quello con l'aggiunta di due nuove idee progettuali. La prima, ha chiarito il sindaco, incentrata su un sistema di mobilità e parcheggi a prevalente uso del centro storico e la seconda per realizzare la strada interpoderale di collegamento della frazione Santo Stefano con la Fondovalle del Rivolo. Entrambe le proposte sono rientrate fra i progetti finanziabili con i contratti di sviluppo. Il sindaco ha poi spiegato l'idea, definita molto complessa quella del 2007, in base alla quale nel centro storico di Campobasso sarebbero stati costruiti parcheggi per un totale di 470 posti auto, più un sistema di ascensori e funivia, roba che nemmeno a Lisbona, città dal centro storico in verticale. Tenendo conto di ciò siamo riusciti a rendere appetibile, ha detto il sindaco un progetto nuovo che rispetto a quello del 2007 sarà molto meno impattante sul territorio di quanto era previsto, eliminando in questo senso anche un tunnel pedonale. Gravina ha annunciato all'aula che i posti auto sono stati ridotti a 180 e che il centro storico sarà accessibile anche attraverso un trenino elettrico su monorotaia che nulla a che vedere con la tanto citata funivia. Tutto questo, a concluso, potrà essere migliorato e aggiornato nel tempo. Come raggiungere Campobasso e le fermate della funicolare elettrica? Semplice, con la metropolitana leggera, altra avveniristica fantasia che per ora ha le stazioni, la cartellonistica, i lampioni e gli scivoli, ma non ci sono i treni e soprattutto non c'è un cristiano che abbia intenzione di salirci da Matrice a Boiano.